Mettiamoci alla scuola di Gesù per imparare ad amare, perché l'amore concreto, non quello delle telenovelas, è la carta d'identità del cristiano. Così Papa Francesco si è rivolto ai 70.000 adolescenti italiani, ma anche spagnoli, francesi e belgi e da altre parti del mondo, protagonisti del Giubileo dei Ragazzi, nell'Omelia della Messa celebrata in Piazza San Pietro. Il Pontefice ha sottolineato che amare vuol dire donare qualcosa di se stessi, come Gesù che ci dona la sua amicizia fedele e continua a volerti bene, a starti vicino, a credere in te più di quanto tu credi in te stesso. Se ascoltate la sua voce, ha aggiunto, il Signore vi rivelerà il segreto della tenerezza, prendersi cura dell'altra persona, voler bene senza possedere. Essere liberi, ha spiegato ancora Papa Francesco, non significa fare quello che si vuole, perché la libertà è il dono di saper scegliere il bene, anche se faticoso. La vera ricchezza siete voi, non le cose che si possiedono. La vostra felicità non ha prezzo e non si commercia, non è un'app che si scarica sul telefonino. Nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell'amore. Perché l'amore è il dono libero di chi ha il cuore aperto. L'amore è una responsabilità, una responsabilità ma bella, che dura tutta la vita. È l'impegno quotidiano di chi sa realizzare grandi sogni. Quando si sbaglia, ha concluso il Papa, bisogna avere il coraggio di andare avanti perché c'è la mano di Gesù che ci risolleva, ci alza. Alzatevi, Dio vi vuole in piedi, sempre in piedi. Così potrete costruire il vostro futuro insieme agli altri e per gli altri, mai contro qualcun altro. Al termine della celebrazione il Pontefice ha invitato i ragazzi ad essere missionari della misericordia, consegnando ad alcuni di loro un crocifisso. Grazie a tutti.